Buonasera a tutti, grazie, io sono The Lord al flauto Maria Pia, volevo ringraziare tutta la vostra ospitalità, volevo ringraziarvi di essere qui a partecipare a questo evento, potervi regalare con la mia musica emozioni e poter comunque partecipare a una causa che io tengo molto a queste cose, quando vengo invitato a eventi del genere mi precipito subito, perché credo che siano queste cose che facciano cambiare le cose al mondo, non so come spiegarmi bene. Secondo me abbiamo perso, io ho scritto un disco che è molto sociale e ho voluto trattare tematiche che spesso non ci arrivano dai canali tradizionali e molte persone spesso non ci riflettono a volte perché non vengono condivise e io adoro un sacco condividere queste cose perché credo che ognuno di noi nel suo piccolo, condividendo piccole esperienze del genere, potrà contribuire magari a cambiare qualcosina all'interno dell'altra persona. Insomma così, posso spiegare, grazie. Voglio dire due cose su questi due brani, in particolare l'ultimo che ho suonato è un brano che ho voluto, diciamo mi è venuto pensando al momento politico che stiamo vivendo adesso e mi sono immaginato tutte le persone che sono tutte lì che vociferano e dicono di voler cambiare le cose, di volerle comunque modificare e vedere un mondo migliore, ma alla fine appena gli viene dato qualcosa tornano di nuovo a chiudersi in questa cosa, infatti io ho immaginato le persone come dei conigli. Però nel finale del brano io ho voluto dare un segno di speranza per dire, se noi stessi, se ognuno di noi inizia a cambiare le cose, a condividere con gli altri, forse nel nostro piccolo qualcosa possiamo cambiare, giusto questa cosa. Grazie a tutti ancora. Grazie. 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 Grazie.